Tommasone Per tre riprese Diciamo che il messicano è arrivato alla fine Non ha capito ancora che il match era finito E l'aveva perso Ora gli ottavi? Questo veramente è duro da dire L'ottavo purtroppo Camion nel sorteggio È stato molto sfortunato Negli ottavi c'è il Cubano Tre volte campione del mondo Medaglia di bronza a Londra Le olimpiadi scorse È un vero voriglasse È l'uomo che secondo me Almeno sulla carta Prende la medaglia d'oro alle olimpiadi Io spero che Carmina possa dare il meglio di sé Fare un grande match Dire che Potrà vincere quel match È un po' difficile Vi dico la verità Per un fatto di esperienza Carmina è un grande professionista Nei dilettanti Si adatta un pochino a quel pugilato Più esplosivo In tre riprese Ma molte volte lui fa fatica Diciamo a contenerlo Perché purtroppo Diciamo a livello dilettantistico Sono più abituato A quegli allenamenti Però sono convinto Che Carmina è un ragazzo di cuore Darà tutto per tutto E ci può essere anche Una grande sorpresa Marta di te Grazie a tutti Grazie a tutti